Tre ordinanze di custodia cautelare in carcere messe dal GIP del Tribunale Ordinario e per i minorenni di Salerno, eseguite dai carabinieri del Comando Provinciale di Salerno. I provvedimenti scaturiscono dalle indagini condotte a seguito della scomparsa di Marzia Capezzuti, 29enne milanese, dal comune di Ponte Cagnano, Faiano. Il corpo della donna in avanzato stato di decomposizione fu ritrovato nell'ottobre dello scorso anno nei pressi di un casolare situato nel Bosco San Benedetto, fra Ponte Cagnano, Faiano e Montegorvino, Pugliano. Un giallo che ha portato la procura ad indagare sette persone per omicidio e accuntamento di cadavere. Si tratta della sorella dell'ex fidanzato di Marzia, il compagno, i due figli e tre amici di famiglia.